ciao amici conoscete tutti lo zenzero vero io squaletto ci facciamo sempre la tisana bravi e anche molti amici mi scrivono che usano lo zenzero ogni giorno a volte mi chiedono anche se fanno bene se si può bere ogni giorno se ci sono effetti collaterali quali sono i veri benefici di questa pratica sì lo vogliamo sapere anche noi allora oggi vi spiego cosa succede al nostro corpo quando si beve zenzero ogni giorno se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 antiossidanti il potere antiossidante dello zenzero deriva dal zingiberene una sostanza naturale molto potente che combatte radicali liberi infiammazione e acidificazione del corpo 2 dimagrire forse è il beneficio più decantato dello zenzero ma è così miracoloso come dicono di miracoloso non c'è nulla ma lo zenzero aiuta a stimolare il metabolismo e il potere brucia grassi del corpo ed è un ottimo alleato per chi vuole dimagrire in modo naturale 3 digestione la yurveda consiglia di mangiare un pezzetto di zenzero fresco dopo i pasti per favorire la digestione grazie ai suoi effetti carminativi e anti gonfiore per chi non tolera il sapore troppo piccante va bene anche una tisana sul mio canale trovate diversi video su come usare lo zenzero in cucina per vederli tutti il modo migliore è iscriversi al canale è facile basta un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella per non perdere i nuovi video 4 nausea in caso di nausea mal d'auto sintomi premestruali e pms masticare un pezzetto di zenzero bere una tisana di zenzero aiuta a ridurre il senso di nausea oltre che sbloccare lo stomaco intestino 5 colesterolo alto usare lo zenzero ogni giorno aiuta a combattere il colesterolo alto perché converte il colesterolo cattivo ldl in acido biliare che il corpo può eliminare 6 mal di testa in caso di mal di testa da digestione la funzione analgesica e digestiva dello zenzero aiuta a ridurre emicrania e far passare la crisi 7 difese immunitarie il potere antiossidante dello zenzero sostiene le difese immunitarie per questo è utile contro raffreddore tosse e sintomi da raffreddamento 8 anticancro secondo uno studio svolto in michigan lo zenzero aiuta a prevenire e combattere lo sviluppo delle cellule tumorali per diversi cancri tra cui quello alle ovaie 9 artrosi e artrite mangiare zenzero ogni giorno o berlo come tisana protegge le cartilagini e abbassa i radicali liberi responsabili di artrite e artrosi però è davvero fantastico la natura ci dà tutto se la usiamo bene lo zenzero è una spezia potente non a caso viene usata nella medicina iurvedica ancora oggi come sempre se avete dubbi su interazioni con farmaci in caso di gravidanza o altre situazioni specifiche consultatevi con chi vi segue mangia zenzero e proteggi la salute vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri e the book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao